Gli studi di Abruzzo Web, Giuliana Vespa, bentornata, candidata per le prossime elezioni politiche con la lista Grande Sud MPA, posizione numero 3 alla Camera, dicevamo di fatto potrebbe diventare un numero 2, quindi tecnicamente elegibile e intanto partiamo da questa candidatura, come mai, quali sono le motivazioni alla base? Le motivazioni alla base sono state quelle di un grande amore per la mia città, un amore che mi ha portato per la prima volta in assoluto nella mia vita a essere candidata. Questo amore è perché sono aquilana, la mia è una candidatura aquilana e purtroppo sappiamo benissimo che il centro-destra l'Aquila l'ha penalizzato tanto. Mi riferisco anche al PDL, il PDL che nelle liste, ben sappiamo, ha decisamente tagliato fuori Pescara, ma diciamo che ha dato uno schiaffo importante alla nostra città. L'amico Guido Liris, persona che stimo, al quale faccio un grande in bocca al lupo, ma è un aquilano, un aquilano capace politicamente, ma sappiamo benissimo che è una posizione numero 7, quindi diciamo tra virgolette una posizione non elegibile e questo io l'ho ritenuto molto molto ingiusto perché in tutta Italia, secondo me in questo momento, c'è una motivazione grande per queste elezioni, veniamo da un governo tecnico, abbiamo abrogato per un attimo la democrazia del voto, quindi oggi riandare al voto e dimenticare però in una regione come la nostra, una città come l'Aquila, secondo me è impensabile. L'Aquila oggi più forse di tutte le città d'Italia ha bisogno di un parlamentare aquilano, ha bisogno di un parlamentare che porti nelle stanze che contano i problemi veri della nostra città. Della ricostruzione, in partenza. Della ricostruzione, del lavoro, perché l'Aquila dal punto di vista lavorativo non ha più nulla e la ricostruzione e il lavoro vanno di pari passo, perché nel momento in cui partirà la ricostruzione pesante, quella vera, quella del centro storico, noi avremo dal governo circa un miliardo di euro l'anno. Speriamo. Così è su carta e quindi se non parte la ricostruzione non potremmo mai dirlo, ma se così sarà, noi avremo un miliardo di euro l'anno per circa dieci anni, che è l'1% del PIL nazionale, cosa che in nessuna parte d'Europa si può avere. Quindi questo sarebbe un volano per l'occupazione, per tutto, ma non solo per l'Aquila, ma per l'intero Abruzzo. E quindi le priorità da portare, le battaglie da fare per la nostra città sono veramente tante, tante, tante. E questo è il mio intento. La sua candidatura va inquadrata anche nell'ottica del Movimento Città Nuove di Renata Polverini, l'abbiamo già visto a maggio con le amministrative, quindi confermata questa intesa. Sì, questa candidatura è stata voluta da un accordo che Renata Polverini ha sottoscritto con PDL, ma anche con la lista, tra virgolette, che deve essere quella dei governatori. Beh, lei è nel PDL. Infatti lei è nel PDL, poi dall'Abruzzo si è scelto in base alle regioni, se era PDL o Grande Sud. In questo momento l'Abruzzo, per quanto sia una regione centrale, ha le problematiche un po' più vicine a quelle del sud. Lo dice Gianni Chiodi che siamo del sud. Sì, io la penso come il nostro presidente, quindi su questo aspetto concordiamo. Perfetto. Ma in ottica futura, è chiaro che i conti si rifaranno tutti il 26 febbraio, però visto che è in atto una sorta di campagna acquisti da parte del PDL Aquilano che si rifonda, lei potrebbe essere interessata a questo progetto? Ma io adesso voglio pensare a questa elezione, voglio pensare alla mia città. Grande Sud è nella coalizione, quindi non è che stiamo parlando di… non ci stiamo discostando molto. Il Grande Sud oggi, specialmente all'Aquila, fa diciamo un po' da contrappeso a quello che dicevamo prima, va a sopperire tutte quelle mancanze che purtroppo in questa tornata elettorale va riconosciuto. A me dispiace, ma va riconosciuto. Il PDL è stato molto poco attento e all'aquilanità e alle donne, perché non ci dimentichiamo che in questa lista, come lei ricordava all'inizio, la capolista è donna. Io sono al numero tre, di fatto forse probabilmente seconda, visto che è la Mazzali, capolista, ha un altro collegio, tra virgolette come si suol dire sicuro, e siamo due donne in posizione leggibile. Quindi il PDL su questo ha mancato completamente. C'è solo l'Apelino. C'è solo l'Apelino al Senato e quindi in posizione leggibile. Quindi a questo punto diciamo che il Grande Sud ha rimarcato la territorialità e anche il ruolo fondamentale di una donna in politica. Che si parla tanto di queste quote rosa che io non amo molto. Fissate per legge, certo. Queste quote rosa per me non… Ma le donne non le amano quasi nessuna? No, perché la vedo come una discriminazione, è come quando si dice però no all'omofobia. No, non ci deve essere proprio, punto. È una cosa che secondo me, il solo fatto di dirlo, è quasi una forma di discriminazione. Quindi il fatto che invece Grande Sud abbia avuto questa attenzione per me è fondamentale. In questa lista, tra l'altro, non c'è una persona che non sia bruzzese. E quindi penso che sia una lista che veramente sta pensando al territorio. E per me questo è importante. A proposito di quote rosa, il PD schiera Stefania Pezzopane. Come si combatte un mostro sacro della politica aquilana, diciamo così. Con affetto, lo diciamo. Con tutto l'affetto, ma anche con tutta la stima. Perché insomma, l'ho detto all'inizio, io sto alla mia prima esperienza. Quindi sicuramente Stefania Pezzopane mi batte per esperienza uno a cento. Io uno ovviamente e lei cento. Però io posso dire forse di batterla per la passione. Perché la passione che posso metterci io in questa tornata elettorale, perché ci credo, perché vengo da un mondo che è sociale, perché faccio sindacato da sempre, mi occupo di sanità. E quindi penso che sulla passione la batto io cento uno. Grazie Giuliana Vespa. Grazie a voi.